Ecco qua, pranzo strategico, vediamo se arriva la bistecca in attesa All'Italia oggi, abbiamo fatto il nostro incontro di stamattina ha prodotto già qualcosa, insomma, abbiamo più che altro che ha chiarato con il titolare del posto, molto bello e abbiamo conosciuto due ragazzi che hanno un'agenzia web produzione e contenuti video, niente, non si può stare producono video, grafiche, banner e due ragazzi bravi, interessanti posso arrivare a tagliata? no, è cagliato e quindi bene, abbiamo fatto un po' di network vediamo se oggi riusciamo a fare un po' di più però quello che volevamo condividere è come a volte magari ci sono dei piccoli artigiani del web, cioè questi due erano due ragazzi in partita IVA che hanno anche molto lavoro perché hanno anche altri collaboratori quindi danno lavoro anche agli altri e stanno facendo delle cose interessanti, sono bravi e magari poi sono a loro che delegano i i lavori poi l'agenzia... l'ultimo anello della catena e poi sono quelli che fanno effettivamente il lavoro magari prima c'è chi ha delegato a loro e a sua volta un'altra agenzia più grande ha delegato a loro e quindi era capire questo perché oggi non è detto che andare da una grande agenzia che possa portare tanto di più rispetto a andare dall'artigiano del web che appunto ci mette tutta la passione ed ha l'esperienza pari a quella di una grande agenzia quindi non sempre è così diciamo che magari per le grandi aziende l'agenzia va bene perché tiene le fila di tutto organizza i lavori, organizza i vari clients che fanno cose diverse forse per le aziende più piccole si può iniziare a gestire le varie professionalità proprio direttamente per le aziende però bisogna saperlo fare e bisogna sapere trovare le persone giuste magari possiamo aiutare dando anche delle segnalazioni poi questi professionisti qua come noi hanno tutti i clienti che li arrivano da passaparola perché lavorano bene e gli arrivano altri clienti e quindi se si lavora bene quando sei un professionista di questo tipo ti arrivano parecchi lavori in questa maniera qua però bisogna saper riconoscerli questi personaggi quindi questo è quello che abbiamo imparato stamattina adesso impariamo a mangiare la tagliata appena arriva non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente con vuoto assolutamente hai il posto, è carissimo eh va bene ciao ragazzi ciao Grazie.